Allora, buonasera, benvenuti a tutti. Questo è l'ultimo incontro del ciclo di seminari che quest'anno La Normale ha dedicato ad Aldo Capitini, ha 50 anni dalla sua scomparsa. Questa sera interviene Pietro Polito, il direttore del centro studi Gobetti. Non dico nulla su di lui, si presenterà da solo. Semplicemente, ovviamente, ha dedicato moltissimi studi sia alla figura di Gobetti ma anche alla figura di Capitini. Ricordo soltanto un suo studio, Il dovere di non collaborare. E oggi ci parlerà, insomma, il suo intervento si intitola Il potere è di tutti. Aldo Capitini dall'antifascismo all'omnicrazia. Prima di lasciargli la parola mi corre soltanto un obbligo formale e conviviale. Al termine della lezione vi aspetto a un piccolo buffet qui fuori. Tutto qua. Allora, lascio subito la parola a Pietro Polito. Grazie. Ma come presentazione personale mi limiterei a dire che ho avuto due maestri, diciamo così. Un maestro reale che è stato Norberto Bobbio, col quale ho fatto il mio percorso di studi e di lavoro. E anche attraverso Bobbio, uno degli autori, anche attraverso Bobbio, è avvenuto l'incontro col mio maestro ideale, che è Aldo Capitini. Piero Gobetti è un altro pianeta che in questa occasione lasciamo di lato, diciamo così. E quindi è una relazione, una lezione, un discorso su una figura che ho analizzato e analizzerò in modo descrittivo, quindi in modo rigorosamente scientifico. Ma verso la quale c'è anche una consonanza ideale, una figura di cui mi riconosco sul piano ideale, diciamo così. E siccome questa lezione conclude un ciclo di cui sono state già esaminate diverse facce di Capitini, anticipo brevemente, diciamo così, lo schema del discorso e mi occuperò di provare a riassumere, provare a mettere, diciamo così, a iscrivere Capitini dentro quattro grandi parole chiave. La prima è antifascismo e libera socialismo, o meglio, l'antifascismo nella forma del libera socialismo. La seconda è la religione, la quarta è la non violenza e la terza è la non violenza e l'ultima è l'omnicrazia o potere di tutti. Queste quattro grandi parole chiave possono servirci anche per scandire la vita di Capitini, nel senso che si assumono un maggiore rilievo in diverse fasi della sua vita, ma sono quattro parole chiave, quattro concetti che noi ritroviamo tutti già all'inizio, diciamo così. All'inizio, quando Capitini diventa Capitini, Capitini diventa Capitini qui alla Scuola Normale Superiore di Pisa, il 2 gennaio del 1933, quando compie la scelta che segna la sua vita e dà l'indirizzo alla sua vita, che è la scelta di non aderire al Partito Nazionale Fascista, condizione impostogli da gentile per poter continuare ad essere il segretario della Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra il 2 e il 3 gennaio del 1933 Capitini scrive alcune lettere, la prima è la lettera delle divisioni dalla normale, e poi altre che sono indirizzate ai suoi familiari, al padre, alla madre e al fratello Giovanni, dove queste quattro parole, questi quattro concetti emergono, diciamo così, chiaramente. A Gentile, nella lettera delle dimensioni forzate, scrive «Ho preso in esame per molto tempo, dal punto di vista religioso, il problema della violenza e l'insegnamento ad aver fiducia in essa, e mi è sembrato che quell'insegnamento sia un errore e riveli mancanza di profonda fede nello spirito, la non violenza». Poi al padre, ciò che conta è il bene, il valore che non è giudicato dagli uomini, ma è visto da Dio. La religione, anche se la religione dei Capitini, come vedremo, non è una religione teistica, diciamo così. E alla madre scrive, si dice «Calmo e sereno», poi aggiunge «Faccio quel che è giusto e non temo nulla». E poi c'è due passaggi di due lettere al fratello Giovanni «A te poi in particolare ho sempre raccomandato e raccomanderò sempre di agire secondo le tue idee». Quindi qui noi abbiamo già trovato l'antifascismo, la non violenza, la religione, e poi c'è una frase che connette il rifiuto della violenza e il rifiuto del fascismo, e questa connessione la troviamo più in una lettera al fratello Giovanni che non nella lettera a Gentile, dove si insiste più sul tema del rifiuto della violenza e della religione. Al fratello scrive «Le mie idee religiose sono assolutamente contrarie alla violenza». Quindi è un rifiuto della violenza o una scelta della non violenza su basi religiose. Vedremo poi di che cosa si tratta. «Essendo io dunque contrario alla violenza, non posso approvare il tipo di educazione che si dà oggi in Italia, che è una gonfiatura di patriottismo, è un insegnamento continuo di esaltazione, di potenza, intesa in senso materiale. Tutte cose, questa è una sintesi di ciò che era il fascismo, contrarissime alla religione. Perciò non posso dirmi fascista e compiere l'ipocrisia di iscrivermi o la viltà di cedere». Torniamo ancora un momento sulle quattro parole chiave. Tra queste quattro parole chiave la religione, una certa idea di religione che poi Capitini declinerà nella forma della religione aperta è lo sguardo, lo sguardo che Capitini assume per guardare al mondo, alla realtà, alla convivenza, ai problemi dell'organizzazione sociale e della politica. E innerva tutto il ragionamento di Aldo Capitini. Tra poi non violenza e antifascismo, non antifascismo, e liberar socialismo in un primo momento, Capitini è tra i fondatori del momento liberale socialista con Guido Paloggio nel 1940, e l'omnicrazia che è un'idea che è precedente, si trova negli scritti precedenti, ma che Capitini sviluppa prevalentemente negli ultimi anni della sua vita, quindi a partire dal 1964 in poi, si può stabilire una relazione del tipo tra la via e la meta. Cioè, la non violenza non è solo questo, ma in relazione al liberal socialismo e all'omnicrazia può essere intesa così come nella forma della via attraverso la quale si può giungere a una meta. Il liberal socialismo è un ideale di società, è un fine, e così anche l'omnicrazia. L'omnicrazia si potrebbe dire è il modo attraverso il quale Capitini ripensa e riorganizza la sua idea di società che in un primo momento nel libro Nuova socialità e riforma religiosa, un libro dei 50 che raccoglie gli scritti precedenti a quella data, aveva riassunto nella formula del liberal socialismo. Vediamole una per una, brevemente. Liberal socialismo. La scelta dell'antifascismo si esprime, si prolunga in quella del liberal socialismo. Nella galassia dei movimenti antifascisti Capitini ne fonda uno che è quello del liberal socialismo, l'abbiamo già detto con Guido Calogero, il liberal socialismo poi nella sua che è una rete adesso non possiamo parlare di questo, una rete sul piano nazionale, ci sono diverse anime, il liberal socialismo poi diventerà una corrente del partito d'azione prevalentemente, Capitini non seguirà Calogero, l'amico Calogero in questa scelta e non aderirà al partito d'azione. si capirà poi bene perché la scelta di questa scelta perché in questa prima fase del ragionamento basti dire, basti ricordare il congresso fondativo del partito d'azione si tiene a Firenze il primo congresso tra il 5 settembre il 3 e il 5 settembre del 43 Capitini non vi partecipa manda un discorso intitolato orientamento per una nuova socialità e qui motiva la decisione di non aderire al nuovo partito perché per lui il liberal socialismo non può essere non può non è e non deve essere un nuovo partito tra i tanti è qualcosa di più ampio di assimilabile a un movimento ma contemporaneamente si distingue anche dal movimento il liberal socialismo questa è una frase di Capitini è un atteggiamento dell'anima dell'animo un aprirsi in una direzione una certezza e una speranza sempre rinnovantisi queste espressioni poi orientamento atteggiamento dell'animo speranza una certezza e una speranza sono espressioni che ritroveremo anche quando poi verso la fine del ragionamento ci occuperemo dell'omnicrazia una certezza e una speranza che ai suoi occhi non possono rinchiudersi nella politica dei partiti di un partito religione e la ragione per cui una delle ragioni per cui non possono rinchiudersi nella politica di un partito è perché sono posizioni religiose in un certo senso religiose e diremo in che senso e non sono solo ed esclusivamente posizioni politiche neanche solo posizioni etico-politiche c'è un di più un qualche cosa che si aggiunge e che viene dalla religione religione il discorso religioso di Capitini è piuttosto complesso e qui a noi serve probabilmente è stato già esaminato negli incontri precedenti ci serve richiamarlo nella misura in cui ci è utile per capire cosa si intende per potere di tutti a torto a volte Capitini si trova anche di recente perché di recente è uscito un articolo un articolone sulla Repubblica dello scrittore Maurizio Maggiani ottimo scrittore io apprezzo i suoi romanzi che ha fatto degli articoli in cui richiamava diverse figure tra cui anche Aldo Capitini e Maggiani anche Maggiani incorre nell'errore di inscrivere inserire Capitini nella storia culturale del Cattolicesimo un torto che gli ha fatto anche Sergio Romano tra gli altri egli non fa parte di quella storia al punto che giunse a fare atto di apostasia il 27 ottobre 1958 scrisse una lettera all'arcivescovo di Perugia Monsignor Pietro Parente per essere cancellato dal registro dei battezzati perché egli non si sentiva parte di quella chiesa per Capitini non si tratta tanto discorso che pure è stato fatto all'interno di 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 riportare il cattolicesimo alle origini evangeliche di un cristianesimo ravvivato da un salutare confronto col protestantesimo per esempio questa è la posizione della figura straordinaria stiamo affrendando Tartaglia amico di Capitini che con Capitini fondò il movimento di riforma della religione ma non è la posizione di Aldo Capitini persuade poco diciamo che l'inserimento di Capitini nella tradizione del cattolicesimo è un errore un falso diciamo così persuade poco anche l'accostamento di Capitini al cristianesimo che è un accostamento che è stato fatto da studiosi importanti di Capitini amici torinesi viene fatto sovente tra gli altri anche da da Enrico Peiretti non sarebbe corretto parlare di anticristianesimo nel caso di Capitini perché il cristianesimo ha pur sempre mantenuta viva nella suo seno una corrente di religione aperta piuttosto la sua religione si configura come una sorta di post cristianesimo Capitini inverte il celebre detto crociano dall'incontro tra la tradizione religiosa occidentale con altre tradizioni diverse emerge in Capitini non la convinzione croce che ha scritto un bellissimo articolo su questo perché non possiamo non dirci cristiani quanto una consapevolezza diversa questa religione l'atteggiamento di Capitini rispetto al cristianesimo possiamo riassumerlo nella formula non possiamo più dirci cristiani oggi forse si potrebbe dire non lo so o comunque attenuando o ragionandoci sopra non possiamo più dirci solo cristiani comunque il discorso di Capitini non si esaurisce e questa è la peculiarità almeno nell'interpretazione che ne viene data questo povericcio nell'ambito religioso ma si allarga un più generale confronto tra laicità e religiosità Capitini è stato spesso definito a mio avviso correttamente un laico religioso un religioso laico a suo giudizio si rivelano inadeguate sia le religioni tradizionali per esempio il cattolicesimo il protestantesimo l'ebraismo il buddismo ma anche le varie prospettive laiche l'illuminismo il protestantesimo l'ebraismo il buddismo non c'è un confronto con l'islam Capitini perché 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 queste perché sono insufficienti diciamo e sono insufficienti sia la prospettiva religiosa sia la prospettiva laica una delle una delle e tra le prospettive laiche l'illuminismo la religione della libertà di croce il socialismo il comunismo una delle una delle una delle definizioni della non violenza di Capitini che a me piace molto è quella che vede nella non violenza l'estrema propagine del movimento che che di rivoluzione moderna che si diparte dall'illuminismo questo è non c'è solo questo però c'è anche questa 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 idea sono entrambe 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 insufficienti le prospettive religiose le diverse prospettive religiose e le prospettive laiche perché entrambe risultano incapaci di superare i limiti dell'esistente di andare oltre l'esistente sono prospettive che in un qualche modo entrambe si rinchiudono all'interno dell'esistente non sono delle autentiche rivoluzioni o come diceva Capitini tramutazioni la religione tradizionale rimanda alla liberazione a un altro tempo e a un altro mondo il pensiero laico rinunciando alla trascendenza si rinchiude nei limiti di questo mondo e lo accetta qual è la nuova religione la religione aperta e Capitini chi è interessato a questo aspetto di Capitini c'è un bellissimo io direi di partire da lì chi vuole studiare Capitini parta da religione aperta dove c'è tutto Capitini Capitini da tutto Capitini in una sintesi anche chiara e accessibile anche efficace e anche una bellissima lettura è la religione che si propone di andare oltre ma di far sì che il paradosso si attui il paradosso della non violenza qui ora e subito non violenza ci soffermeremo poi più a lungo sulla sulla sul tema di questo pomeriggio che il potere è di tutti il potere di tutti che fare perché il paradosso si attui cioè perché la liberazione poi che fare perché il paradosso si attui nella nostra vita quotidiana questo è l'indicazione di Capitini a partire dalla nostra vita quotidiana bisogna bisogna vivere non violentemente e la vita di Aldo Capitini è stata è stata è stata presentata come da Fabrizio Truini che ha scritto un bel libro complessivo di Capitini come una esemplare pedagogia della non violenza l'attivismo capitiniano l'attivismo non violento capitiniano che inizia con la scelta di di sostenere e di essere vicino al giovane Claudio Baglietto il primo obiettore di coscienza con cui aveva compiuto Baglietto era più giovane di lui di alcuni anni e quindi anche lui normalista che sceglie rinuncia a una rinuncia a diventare l'allievo prediletto di Giovanni Gentile pur di non cedere rispetto alle proprie idee che erano di rifiuto del servizio militare quindi il giovane Baglietto si trovava in Svizzera nel 40 per una borsa di studio datagli da Armando Carlini allora direttore cioè suo professore alla normale e si trovava lì per studiare con Heidegger lui rinuncia non torna in Italia per fare il servizio militare per coerenza con il proprio pacifismo e con la propria obiezione di coscienza nell'attivismo non violento di Capitini uno degli ambiti diciamo così più in cui lui si è impegnato di più è quello per l'obiezione di coscienza il riconoscimento dell'obiezione di coscienza seguirà Pietro Pinna nella sua scelta nel 48 e e poi in questo attivismo non violento è stato tra l'altro il fondatore della società vegetariana in Italia fonda il movimento fonda prima la consulta per la pace negli anni primi anni 60 poi il movimento non violento fonda la rivista nel 64 azione non violenta una rivista che tuttora viene pubblicata e fonda poi nel 64 un organo e qui ci avviciniamo al nostro tema un giornale un giornaletto chiamiamolo così a Perugia che si chiama il potere è di tutti ed è un giornale che esce tra il 64 e arriva fino all'ottobre del 68 con la morte di Capitini sulla non violenza poi qui noi abbiamo dato uno squarcio dell'attivismo ma sulla non violenza Capitini ha scritto riflettuto è uno dei grandi temi suoi grandi temi di studio che corre lungo tutte le sue opere e alla non violenza ha dedicato due libri uno la la non violenza oggi del 62 e un altro le tecniche della non violenza che è del 67 il potere è di tutti omnicrazia il potere è di tutti è la è la formula è il titolo del giornale e la il potere di tutti il potere di tutti è il titolo di un libro un libro postumo di Aldo Capitini che esce dopo la sua morte ed è un libro composto così con una prefazione di Pietro Pinna un'introduzione di Alberto Bobbio è un libro che nella 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 raccoglie raccoglie gli articoli di Aldo nella rivistina il potere e di tutti la seconda parte raccoglie le lettere di religione sono delle circolari che Capitini scriveva periodicamente alla rete degli amici della non violenza e la e la prima parte del volume c'è un saggio che si chiama Omnicrazia questo saggio Omnicrazia io sono andato sono stato nei vari nelle mie varie ricerche era un saggio è un saggio a cui Capitini attendeva negli ultimi anni della sua vita a cui tendeva molto teneva molto ho scritto a Umberto Segre che in quel periodo dirigeva la casa di un saggiatore si stava adoperando il libro era quasi pronto diciamo si stava adoperando per poterlo poi pubblicare e interpretava questo questo suo saggio questo saggio Omnicrazia come un po' la la summa la sintesi la la il libro in cui lui proponeva la sua visione della politica diciamo del suo pensiero politico Omnicrazia è una parola composita è una parola che non si trova è un neologismo inventato da Aldo Capitini quindi se voi andate nel grande dizionario il battaglia della UTET che adesso non so se forse ci saranno altri ma non credo alla parola Omnicrazia c'è scritto Lemma neologismo coniato da Aldo Capitini ed è una parola composta a differenza delle delle parole che ci giungono dall'antichità democrazia da due parole di origine greca o anche di origine questa è una parola composta da 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 omnis omnia omnium una parola di origine latina e Kratos potere da dal dal greco il potere di tutti quindi lui per per esprimere la sua idea di politica trova poteva prenderne poteva prenderne una dal dal lessico politico dalla storia del pensiero politico democrazia per esempio o altre ma la parola democrazia anche qui non basta cioè non e quindi conio una nuova parola questa nuova parola ma la l'omnicrazia è è una parente della democrazia diciamo c'è un rapporto di parentela tra democrazia e omnicrazia che rapporto c'è tra democrazia e omnicrazia le due le due non sono in contrasto non c'è un rapporto di contrasto come c'è per esempio tra omnicrazia e e e dittatura o omnicrazia o e e e totalitarismo e così via nazionalismo la democrazia nel senso che la democrazia può avvicinare e preparare l'omnicrazia mentre l'omnicrazia è lo svolgimento e l'invernamento della democrazia in poche parole l'omnicrazia viene giunge verrà dopo la democrazia questa è un'interpretazione non è che Capitini ha scritto queste cose però è un'interpretazione è un lavoro sui suoi testi e in che modo diciamo così l'omnicrazia invera la democrazia o o o viceversa la democrazia per alcuni suoi aspetti può preparare l'omnicrazia la democrazia secondo Capitini ma queste sono cose che sono come si potrebbe dire nella radice stessa è una decisione terminologica la democrazia è il potere dei molti è il potere del maggior numero la democrazia fa un passo avanti perché effettivamente slarga il potere dall'elite lo allieva allarga a un maggior amplia diciamo così la 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 sfera del potere ma la sfera ma per quanto la allarghi non la allarga a tutti questa è un po' la differenza tra le due tra le due però nella per quanto diciamo così vedremo attraverso una serie di tecniche il parlamento la regola di maggioranza c'è questo ma ci si ferma a un certo punto la democrazia l'onnicrazia invera la democrazia attraverso quattro grandi aggiunte aggiunta è un termine è un altro termine centrale del lessico capitiliano c'è un bellissimo libro anche questo che vi suggerisco di leggere aggiunta religiosa all'opposizione queste aggiunte sono quattro le vediamo brevemente e poi c'è una una conclusione la prima aggiunta è il controllo dal basso l'atteggiamento di Capitini verso il Parlamento verso l'istituto parlamentare non va confuso col generico antiparlamentarismo che in diverse situazioni storiche accomuna l'estrema sinistra e l'estrema destra per lui si tratta di andare oltre la democrazia parlamentare conservando negli istituti che la contraddistinguono a cominciare da quell'istituzione fondamentale della democrazia che è il Parlamento questa è una frase di Capitini non sono d'accordo con i distruttori del sistema rappresentativo che le democrazie occidentali hanno costruito ma ne vedo i limiti bisogna essere vissuti sotto una dittatura per capire che il libero funzionamento della rappresentanza parlamentare è qualche cosa di positivo non accetto la frase del cretinismo parlamentare ma pur ribadendo i limiti dell'utilità del Parlamento ne vedi i limiti quali? Allora un primo limite è che la lotta politica in Parlamento è più facilmente influenzabile da parte di interessi particolari e settari le lobby se voi vedete la vita parlare ciò di cui si discute in caso Siri è quello un altro limite è che attraverso il Parlamento si privilegia la formazione delle persone colte che hanno altri modi per esercitare una qualche influenza pubblica più che l'educazione critica delle moltitudini popolari quelle a cui bisognerebbe tenere di più e questa è un'altra critica che si fa tutti i giorni all'attuale sinistra diciamo che è la sinistra dell'elite e non è la sinistra del popolo diciamo così lasciando i popoli ad altri ad altri ad altri ma il limite principale del del Parlamento è che il Parlamento che pure è dal basso per la sua derivazione dall'elezione rischia di diventare dall'alto il Parlamento pur nascendo da un diciamo una sorta dalle libere elezioni politiche rischia di diventare dalla capitale questo è un è un è un dei capitini guarda la politica dalla capitale da un cerchio di conoscenze speciali e di interessi riservati a pochi di qui l'esigenza che il Parlamento ha bisogno di essere integrato di moltissimi centri sociali assemblee deliberanti o consultive in tutta la periferia questa integrazione è dal basso l'istituto fondamentale e poi vedremo qual è l'istituto fondamentale dell'onnicrazia l'istituto fondamentale della democrazia è il Parlamento l'istituto fondamentale del potere di tutti è l'assemblea il principio che l'assemblea ha il potere è valido perché ciò che assomiglia di più di ogni altra cosa è la realtà di tutti che è dal basso e onnicoprensiva poi sull'assemblea torneremo la seconda aggiunta è il metodo non violento il valore del metodo non violento il metodo non violento è un metodo per tutti mentre la democrazia è un metodo per molti per una maggioranza il metodo non violento è un metodo per tutti questo metodo esige qualità di coraggio tenacia sacrificio e di non perdere mai l'amore esige addestramento fisico psicologico ma è possibile anche per persone di forze modeste può essere applicato da tutti è un metodo in cui un cieco dice Capitini può essere più utile di un gigante la forza della non violenza è che è un metodo in cui ciascuno può dare il proprio contributo il malato l'escluso e così via si svolge non dall'alto ma non dal basso perché pone in primo piano non la forza fisica ma la forza dell'animo prefigura l'unità di tutti non dal punto di vista dei potenti ma da quello degli inermi e degli intrepidi non esclude nessuno paradossalmente nemmeno gli avversari perché è rivolto contro il male e non contro le persone è un metodo dinamico costruttivo aperto che richiede la collaborazione di tutti i deboli gli inermi le donne gli anziani i giovanissimi i bambini e poi alcune immagini straordinarie di Capitini che erano in precedenza ma e riprenderemo verso la fine sulla non violenza qui ce n'è una la non violenza è la porta aperta per non rimanere soli per quanto riguarda il rapporto con l'omnicrazia la non violenza è un metodo più avanzato del metodo elettorale nel momento stesso in cui viene praticato il metodo non violento fa vivere l'esigenza concreta del potere di tutti quindi il potere di tutti poi questo è importante il potere di tutti non è una non è sì poi un pochino c'è lo si può anche riprendere non è non è non è un appara non è prima ancora che un apparato di istituzioni è un come si potrebbe dire è una è una è una è una scelta intima personale la la non violenza attua il potere di tutti nel suo svolgersi ci non è il metodo non violente mentre mentre il metodo elettorale è una come si potrebbe dire è un'azione politica che attraverso le elezioni conquista il governo o il potere il metodo non violento è un'azione politica che attraverso il coinvolgimento dei tutti nel processo diciamo così che porta al potere di tutti già fa vivere il potere di tutti il il metodo elettorale divide no? divide il metodo non violento aggiunge unisce connette tanto è vero che poi sviluppando queste diverse tecniche mentre il il potere qui si può vedere anche un limite diciamo così in questa visione il metodo il 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 metodo democratico il metodo democratico si fonda sulla regola di maggioranza il il metodo non violento si fonda sul consenso cioè il metodo non violento tende a costruire consenso ad aggiungere no? terza aggiunta il centro il centro il centro chiunque può dare il proprio contributo questa rete diciamo così di questo movimento chiamiamolo così che prefigura il potere di tutti e fa vivere il potere di tutti attraverso la non violenza si organizza per centri per piccoli centri o piccoli gruppi piccoli centri centro è sinonimo di gruppo ma ciascuno di noi è un centro ognuno è centro di se stesso e come centro porta il suo contributo nel movimento non violento l'utopia di Capitini l'utopia di Capitini questo sono concetti scivolosi che alludono anche ragionamenti a cose che sentiamo nel 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 ragionamento troviamo sui giornali e così via è lo stato senza partiti alla critica dei limiti del Parlamento egli affianca un'analoga critica dei limiti del partito il centro è l'antipartito mettiamola così mentre l'omnicrazia è l'antidemocrazia nel senso che sostituisce il metodo non violento al metodo elettorale qui sul piano dell'organizzazione politica i centri prendono il posto dei partiti il partito si rivela uno strumento inadeguato di lavoro per la società di tutti nuova socialità e riforma religiosa 1950 i partiti perché perché i partiti esistono per il potere per acquistarlo o per sostenerlo da ciò la loro ragione d'essere e tutti i loro limiti il macchiavellismo la disciplina interna vedete se non sentite non sono cose che si di oggi diciamo così le gelosie il settarismo il patriotismo di partiti la conquista del potere è l'assoluto per il partito il partito è il mezzo il potere è il fine ma qui sorgono gravi difficoltà è la domanda delle domande può il mezzo essere diverso dal partito dal fine può il mezzo essere diverso dal fine con l'espressione nuova socialità Capitini intende che la partecipazione dei cittadini alla discussione e alla decisione dei problemi collettivi sia tanto intensa da non rendere necessaria l'intermediazione dei gruppi organizzati è una bella sfida perché noi sappiamo cioè che tenere come si potrebbe dire la tensione alla partecipazione così alta e anche così continuativa nel tempo sostanzialmente non è possibile o è estremamente difficile o accade in momenti particolari diciamo così della vita politica se il fine della politica non è il potere ma la nuova socialità la principale forma della partecipazione è il centro che non è societario ma comunitario non si schiera contro altri partiti ma si tiene aperto all'iniziativa di tutti qui è Capitini che parla non impone dogmi ma discude problemi non conosce privilegi di tessere di tessera né poteri di funzionari ancora Capitini il centro è aperto al mondo circostante e chiude la sua attenzione ma non registra ciò che riceve va oltre gli iscritti gli iniziati battezzati gli aderenti i fruenti delle stesse idee o degli stessi beni al posto della società circoscritta che esclude trova posto il centro che dà e non sa più da dove arriveranno le onde che partono da esso ma la e ci avviamo verso la conclusione la l'aggiunta diciamo si potrebbe dire l'aggiunta delle aggiunte o l'aggiunta diciamo così che distingue nettamente diciamo così la democrazia e l'omnicrazia si potrebbe dire non violenza e e tutte le tradizioni diciamo mettiamola così nella se noi facessimo una mappa del pensiero politico da Platone in poi ma ma avendo come 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 spettro prevalentemente il novecento quindi delle ideologie politiche chiamavano così della liberazione o comunque delle della delle ideologie politiche per capirci progressiste chiamiamole così e quindi dalla liberalismo repubblicanesimo democrazia socialismo comunismo non violenza dentro questa 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 questo cammino la non violenza si distacca nettamente dalle precedenti perché perché nella politica aggiunge la religione c'è un'aggiunta religiosa c'è con la non violenza c'è un salto qualitativo inimmaginato e forse inimmaginabile che non era stato mai immaginato prima dentro dentro quelle le visioni che ho elencato e forse inimmaginabile io questo lo pongo anche come domanda la domanda che voglio porre anche alla microtonina forse inimmaginabile nel senso che non è possibile vediamo di cosa si tratta la quarta aggiunta è la religione aperta e Capitini è consapevole di questa di questo scarto di porsi proprio su un altro piano e la religione aperta la religione aperta la quarta aggiunta consiste nel progressivo riconoscimento del nesso tra piano religioso e piano politico tra la compresenza questo poi è un altro termine che va spiegato c'è un altro libro importante di Aldo Capitini la compresenza dei morti e dei viventi magari lo riprendiamo nella discussione e il problema politico e sociale da cui scaturisce lo dice proprio Capitini un'idea di comunità dice che parrà insolita nelle trattazioni giuridiche politiche e sociali già intanto lui parla di comunità e non di società questa idea di comunità non la si ritrova nei manuali nelle trattazioni precedenti e perché cosa ha di diverso questa idea di il potere di tutti diciamo così dice Capitini della comunità fanno parte non soltanto i cittadini sani attivi e producenti e queste sono le nostre democrazie cioè le democrazie in cui viviamo diciamo le democrazie costruite sulla sulla sul cittadino produttore se non produce e il cittadino produttore è tanto più cittadino produttore quanto più è in buona salute ed è attivo diciamo così ma anche i malati gli inerti i disfatti i morti possiamo essere aperti non soltanto ai viventi ma anche agli esseri prigionieri dei limiti del dolore e della morte ai crocifissi dalla realtà nella forma che essa ha attualmente e tale apertura a quel martirio a quella testimonianza dell'insufficienza della realtà attuale fa accertare in noi una virtù più profonda ed autentica che è quella della compresenza della compresenza di tutti i limiti che abbiamo esaminato prima fin qui sono limiti politici sono limiti che attengono all'organizzazione della democrazia ma la democrazia non ha solo limiti politici ha soprattutto e prevalentemente dei limiti religiosi e questa è la differenza qualitativa tra la democrazia e l'omicrazia non si tratta di sostituire l'assemblea al parlamento il centro al partito e così via da una pagina del saggio omnicrazia questo saggio poteri di tutti dedicata più specificamente al problema del potere possiamo trarre un catalogo dei difetti e delle possibili involuzioni della democrazia della organizza attuale sono difetti e involuzioni ai quali la democrazia è perennemente soggetta diciamo così allora primo limite attribuisce alla maggioranza un potere che qualche volta è eccessivo rispetto ai diritti della minoranza secondo fa guerre di stato contro stato fare guerre si dice uno i difensori della democrazia chi parla è tra i difensori della democrazia e tra i votori della democrazia però dicono che uno dei vantaggi della democrazia è che la democrazia non fa guerre questo è palesemente dimostrato che non è così o poi hanno ridotto non fa guerre le guerre non fanno le democrazie non fanno guerre alle altre democrazie e anche questo non è non è proprio veramente così tre conferisce alle polizie il potere di torturare come avviene in tutti i paesi e molte volte un soverchio intervento dell'ordine pubblico l'Italia ha introdotto una legge sulla tortura contro la tortura malamente in questi giorni in questi mesi non è sufficientemente aperta a ciò che potranno dare o vorranno dare vorranno essere i giovanissimi e i posteri vedete il modo come vengono irrisi i ragazzi scesi in piazza contro l'ambiente e poi i posteri il problema delle future generazioni preferisce le democrazie possono preferire strumenti coercitivi e repressivi a strumenti persuasivi ed educativi poi sesto le democrazie si lasciano sopraffare sopraffare dalle burocrazie trascurando il servizio pubblico pubblico anonimo concentrano il potere preferendo l'efficienza al controllo e finiscono con non considerare sufficientemente i mezzi e le loro conseguenze per raggiungere un fine questa è una descrizione perfetta di di ciò che numerosi tantissimi studiosi di fede democratica hanno dato delle democrazie attuali chiamandole autocrazie cioè le democrazie attuali in realtà più che si vanno allontanandosi diciamo così dalla naturale democrazia e non assumere autocrazie legittimate da un'elezione politica ma perché in ultima istanza la democrazia non realizza effettivamente il potere di tutti ecco la sua risposta la risposta di Capitini la democrazia questo è il punto conserva riferimenti al procedere della natura l'omnicrazia tende ad essere sempre meglio attuatrice della della compresenza per la democrazia la vitalità la forza talvolta la costruzione la rivoluzione la guerra e la guerriglia hanno il loro posto la compresenza si presenta come valore costante e l'individuo unito alla compresenza ha una forza maggiore di tutte le forze è una risposta che rivela la profonda ispirazione religiosa e non politica del suo pensiero non si insisterà mai abbastanza sul fatto che per Capitini il problema politico è indissolubilmente legato al problema religioso il problema dell'avvento e di una società integralmente democratica diciamo così l'omnicrazia è imprescindibile dal problema della formazione nel suo linguaggio della tramutazione dell'uomo democratico sic et simpliciter dell'uomo la riforma omnicratica mira a far nascere congiuntamente a una nuova società un uomo nuovo una considerazione cioè è come si potrebbe come valutare questa 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 costruzione intanto io credo che la storia abbia ampiamente dimostrato come sono andate le cose diciamo così che nessuna trasformazione istituzionale sarebbe possibile o comunque è duratura o durevole se non è accompagnata da una rivoluzione interiore che trovi la propria origine della coscienza produttrice di valori più che come un progetto politico o almeno ragioniamo diciamo così l'omnicrazia può essere più che accolta valutata come un progetto politico certamente l'omnicrazia può configurarsi ed essere accolta come una speranza un ideale morale a cui dovrebbero tendere i persuasi i non violenti particolarmente significativa mi sembra e concludo con questo riferimento una risposta che Capitini dà a una lettrice della rivista il potere è di tutti è un'idea sconcertante è un'idea che sconcerta che spiazza cioè non è un'idea convenzionale diciamo così l'omnicrazia e come tale è dell'anticonvenzionalità diciamo di questa idea erano consapevoli anche i lettori della rivista e allora una lettrice Capitini era un uomo mite era un uomo che mite è poco era un uomo che trovava il tempo per chiunque cioè quindi per i giovani che incontrava in Corso Pannucci quando è costretto a un esilio forzato nella sua Perugia per i lettori delle sue riviste e quindi io è molto bello andare anche a spulciare proprio le risposte che Capitini dà è una delle lettere è di una lettrice in cui gli chiede di spiegare il titolo perché questa richiesta si chiama il potere è di tutti e Capitini dà una risposta che vi voglio riferire il nostro titolo ha evidentemente un valore paradossale il potere è di tutti ma era di tutti no non era di tutti è mai stato di tutti no non è mai stato di tutti o per meglio dire di realtà indubitabile non ancora reale ma ispira fermamente il nostro lavoro e perciò possiamo dire in certo modo che è già cominciata se per esempio perché la non violenza è preferibile alla non violenza perché la non violenza è già di per sé un guadagno cioè già il fatto cioè che viene scelta la non violenza e si lavora per attuare la non violenza è già un guadagno rispetto alla violenza la violenza se ci ragionate viene scelta la violenza di per sé non può mai essere un valore viene scelta come un mezzo perché lo si ritiene efficace per guadagnare qualche cosa ma di per sé è un male diciamo così no se dicessimo diceva Capitini alla lettrice avessimo detto che il potere sia di tutti che poteva essere in italiano o meglio più conforme alla realtà sarebbe una specie di ordine una specie di ordine se diciamo è di tutti significhiamo una nostra persuasione su cui costruire l'omnicrazia è un orizzonte è un orizzonte una speranza ritorniamo una certezza in realtà indubitabile speranza quindi nel 68 lui usa le stesse parole che aveva usato nel cuore della lotta antifascista a proposito di liberare il socialismo ricordate una una certezza e una speranza sempre rinnovanti ed è una persuasione la persuasione che l'uomo possa liberarsi dai gruppi di condizionamento in cui si trova costretto lo Stato e l'impresa e fin qui siamo l'organizzazione politica e l'organizzazione economica e questo è lo scarto la natura non è un atto di fede il potere di tutti può essere inteso e accolto come un ideale limite che può accomunare gli uomini di buona volontà bene grazie e dell'attenzione vi ringrazio dell'attenzione e anche se c'è qualche domanda qualche qualche reazione prego aspetta che cerco una matita prego prego grazie mille ho trovato l'intervento molto condivisibile fino agli ultimi minuti del suo intervento e adesso spiego diciamo cerco di spiegare perché io anche mi occupo di Capitini da un po' di tempo insomma cerco di scrivere anche su Capitini da qualche anno Emanuele Profumi in particolare proprio su questa questione della politica vediamo dove cercherò di argomentare la critica perché altrimenti diventa un po' una cosa incomprensibile allora sono completamente d'accordo ovviamente che Capitini non può che pensare la stessa cosa che fa Gandhi alla politica a partire da una radice fondamentalmente religiosa e quindi che la compresenza sia alla base del concetto dell'idea anche del concetto filosofico possiamo dire perché così anche lo vede Capitini di omnicrazia e però ecco nel ragionamento che lei ha fatto nella ricostruzione che lei ha fatto a me sembra che il passaggio che inizialmente lei sottolinea tra il liberal socialismo e il concetto di omnicrazia non sia stato sviluppato fondamentalmente perlomeno non sia stato sviluppato nella parte che non è direttamente legata alla non violenza cioè non direttamente legata all'aggiunta religiosa perché nella dimensione diciamo liberal socialista viene ripreso una come giustamente ha sottolineato un immaginario possiamo chiamarlo così che è esattamente legato all'immaginario moderno rivoluzionario quindi da questo punto di vista la genealogia a cui lei faceva riferimento è anche la genealogia a cui fa riferimento Capitini direttamente però ecco questo riferimento alle rivoluzioni moderne si porta in sé il riferimento a come Capitini pensa effettivamente essente effettivamente il liberal socialismo e perché non vuole diciamo sostanzialmente poi entrare nel partito d'azione e interpretare il liberal socialismo da una parte come lei giustamente dice come un moto dell'animo e dall'altra però anche come un movimento perché anche a questo fa riferimento poi Capitini perché faccio questa considerazione perché credo che è giusta la connessione tra liberal socialismo e omnicrazia e compresenza e omnicrazia all'interno del percorso Capitiniano ma diciamo che se la prima parte cioè la prima connessione liberal socialismo e compresenza sottolineano l'aspetto politico direttamente politico del pensiero e anche della prospettiva Capitiniana la seconda sottolinea diciamo quello che lei ha fatto secondo me in maniera molto molto buona la connessione tra la dimensione religiosa e la dimensione politica che cosa voglio dire con questo voglio dire che esistono quantomeno due radici del concetto importante dell'idea importante della prospettiva importante dell'omnicrazia da una parte è quella religiosa effettivamente e dall'altra è direttamente politica e questa dimensione direttamente politica ha una sua autonomia secondo me all'interno di Capitini cioè si potrebbe dire che Capitini da una parte è mosso da un profondo senso religioso e dall'altra però e secondo me questo lo differenzia da Gandhi costruisce lei ha fatto riferimento giustamente all'assemblea al controllo dal basso al potere di tutti costruisce tutto un armamentario detto così concettuale e anche poi effettivamente esistenziale in cui lui vuole sostituire effettivamente su questo ecco non sono d'accordo e questa è la critica vuole sostituire la realtà attuale la realtà insufficiente per tramutarla attraverso l'indicazione di realtà che già esprimono la compresenza e che sono possiamo chiamarle così istituzioni altre rispetto all'istituzione della democrazia che noi viviamo della democrazia realizzata l'assemblea per esempio i COS quello che in qualche modo lei ha chiamato centro che è giusto ma che Capitini chiama anche comunità aperta e quindi sono una serie di indicazioni Capitini per dire guardate che noi la realtà attuale la possiamo già tramutare attraverso cose che sono già nate sono istituzioni in questo senso io penso quindi lo riassumo così e finisco che Capitini faccia un passo più avanti dalla mia prospettiva rispetto a Gandhi perché lui sta già dando indicazioni di quella che è la realizzazione della compresenza e cioè dell'omnicrazia già realizzata e quindi in sostanza stia dando un potere diciamo così un valore importante al potere di tutti già realizzato che cosa voglio dire che esiste un'autonomia del politico all'interno della prospettiva di Capitini e non è un caso secondo me che alla fine di tutta la sua lunga esistenza diciamo da non violento si fissa sulla questione del potere di tutti non perché diciamo è casuale ma perché lo ritiene un punto di svolta per realizzare la compresenza che secondo me Capitini non interpreta e qui la critica più importante che le faccio non lo interpreta come un ideale limite neanche come un ideale morale a cui tendere ma lo interpreta invece come effettivamente un progetto d'alternativa politica già iniziato e che quindi può portare soltanto a una tramutazione ancora più profonda se ovviamente seguito fino alle sue estreme conseguenze ma seguirlo fino alle estreme conseguenze non significa interpretarlo e viverlo kantianamente come ideale limite significa interpretare diciamo kant in un senso un po' più pragmatico potremmo dire così va bene capitini sì sì era una considerazione mia sulla base di questa di questa lettera esposta a questa lettera di Capitini ho prefigurato l'omonicrazia come un ideale limite ma no Capitini crede che lo si possa realizzare che lo si sta realizzando anzi le quattro aggiunte che ho che ho che ho numerato ed è giusto anche l'osservazione sul pezzo politico diciamo così social che poi la socialità è un fatto è un fatto politico non è un fatto religioso e c'è un saggio che del 64 che io ho pubblicato in un libro su Capitini di tempo fa di qualche tempo fa in teoria politica e struttura sociale dell'omonicrazia dove lui parla proprio della e le quattro e le prime tre aggiunte quella prima non la legione aperta sono la prefigurazione della struttura politica e sociale di del suo ideale politico e quindi chiarito questa cosa qua diciamo così sono io che sono un po' scettico sulle possibilità dell'omnicrazia Capitini invece volevo dire quando lui parla di quelle quattro aggiunte nel 64 crede di vedere e forse questo è legato ad alcuni ragionamenti che facevamo prima con Tonino lui scrive tra il 64 e il 68 sono anni in cui effettivamente sembra che il mondo si stia aprendo stia andando possa andare verso una nuova socialità e sono gli anni in cui ci sono grandi o piccoli movimenti politici che poi portano agli anni 60 68 e così via e sono anche gli anni del disgelo la chiesa sembra e lui sembra parla di quelle qua e il suo contributo che lui dà a un mondo in movimento cioè questo mondo in movimento che si sta aprendo e dà una serie di indicazioni concrete in quella in un'ottica non violenta diciamo così poi è giusto anche l'altra osservazione nel senso che il cioè Capitini è tutt'altro che un ingenuo è un uomo fiducioso ma è tutt'altro che un ingenuo è tutt'altro che un uomo che viveva sulle nuvole ed era molto attento anche alle dinamiche tra i partiti e quindi là dentro il liberal socialismo c'è un pezzo io ho insistito sull'aspetto religioso certamente però c'è un pezzo che è proprio di economico politico sociale il liberal socialismo è anche sia nella versione di Calogero ma anche in quella di Capitini è una risposta come si potrebbe dire è una critica del comunismo cioè è una critica dell'organizzazione sociale collettivistica da un lato e dall'altro lato è una critica dell'organizzazione sociale capitalistica quindi c'è questa dimensione del liberal socialismo importante c'è già per esempio anche per dare nel suo primo libro nel suo primo libro gli elementi di un'esperienza religiosa il quarto capitolo è proprio questo il cuore del la quarta parte gli elementi dell'esperienza religiosa sono da una parte una critica del collettivismo e da una parte la critica del capitalismo c'è questa dimensione certamente presente nel concetto di liberal socialismo che poi si riverbera anche nella 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 struttura dell'onicrazia quindi le sue osservazioni sono giuste nel senso c'è la una è un'integrazione diciamo sia il ragionamento che ho fatto e quindi è da accogliere l'altra è stato un fraintendimento io in generato nel senso che l'interversione con gli ideali limiti non è di Capitini ma è un'interversione che ho dato io volevo chiedere noi siamo dopo 50 anni dalla morte di Capitini quindi il problema di fondo è l'attualità di Capitini e nella sua vita Capitini secondo me ha avuto la più grande vittoria che potesse mai sperare con il rifiuto dei 600.000 internati militari italiani in Germania che lui aveva auspicato in una forma idealizzata un movimento di disobbedienza civile in Italia che potesse far cadere il fascismo l'unica mossa non violenta che lui vedeva e che lui propugnava in tutte le maniere per cui lo mettevano in galera anche se non aveva fatto niente durante la guerra proprio perché temevano che potesse suscitare un movimento del genere in Italia lui però non ha mai saputo di questo movimento questo movimento è stato tirato fuori da Giuntella nel 70 quando lui era morto e quindi lui non ha saputo che aveva vinto rispetto al fascismo vinto in maniera straordinaria perché non c'è nessuna interpretazione di quel rifiuto dei 600.000 che non possa essere condotto o per via diretta o per via traversa al suo libro Elementi di un'esperienza religiosa l'unico libro che in un periodo di pieno conformismo e di totale obbedienza alla Chiesa e allo Stato fascista riteneva che Dio fosse scelta cioè fosse una maniera di uscire dalle strutture e presentarsi con la propria personalità è quello che hanno fatto questi internati a costo di morire al gelo di meno 20 gradi dei dei lager tedeschi ora quindi quello che sembra venire fuori è un dialogo tra sordi Capitini l'unico momento che ha avuto in cui ha potuto dialogare con molti è stata la marcia per Ugi Assisi che però è stato un evento momentaneo straordinario sicuramente ma momentaneo che gli ha dato una platea alla quale riferirsi formidabile che però purtroppo non ha avuto seguito comunque è stata una azione non è stata una programma ecco la mia domanda è che cosa è mancato in Capitini perché ad esempio il movimento studentesco che ha ripreso il potere di tutti l'assemblea tutta una serie di idee di Capitini non si è agganciato se non a Capitini direttamente almeno alla sua memoria che cosa i filosofi non hanno visto in Capitini da poterlo riproporre sia pure in forme diverse che cosa è mancato a Capitini in tutta la sua attività intellettuale non un'attività operativa che è stata enorme e che ha creato legami e sicuramente ha avuto il massimo ha avuto il massimo vantaggio da questa sua attività ma che cosa nelle proposte che Capitini ha fatto è stato l'elemento mancante perché in definitiva Capitini non ha avuto un seguito in qualche cosa nella filosofia nella politica in tutti i settori in cui lui si è misurato cercando secondo me di tradurre prima di tutto in occidente quello che nessuno aveva mai fatto prima di lui il messaggio di Gandhi che era un messaggio però a priori orientalista a priori induista a priori di una terra sconosciuta e misteriosa che quindi non poteva essere riprodotto paro paro anzi doveva essere rimasticato completamente Capitini l'ha concettualizzato ha creato tutta una serie di concetti come questo il potere di tutti che non ha Gandhi perché Gandhi ci si avvicini per dirne uno ma tutti gli altri la compresenza l'aggiunta eccetera sono tutti concetti originali che lui trova crea e con cui innova la non violenza di Gandhi ma perché? perché non può riproporre Gandhi paro paro fa questo lavoro enorme rispetto a tutto l'occidente non c'è d'uguali né negli Stati Uniti né in Francia né in Germania c'è solo l'anselvasto ma lo fa in un'altra maniera sotto una dirittura di una religione già costituita e delle religioni già costituite che è un binario parallelo non è il suo quindi Capitini fa un'opera formidabile a livello mondiale poi però non c'è nessuno che riprende questo discorso sotto qualche aspetto almeno se non nelle azioni pratiche come dicevo prima della marcia per l'usassisi che poi continua un po' limitatamente con il movimento non violento l'azione non violenta questa cosa che dura tuttora a livello di piccoli gruppi che era poi l'aspetto che lui prediligeva ma di fatto più che la parte operativa non abbiamo un elemento che faccia andare oltre la traiettoria che ha tracciato Capitini che cosa gli è mancato secondo te? se si può dire così la mia non violenza diciamo così è Capitiniana e non Gandiana e quindi dico questo per dire che secondo me Capitini non può essere solo visto come l'autore il filosofo il pensatore che ha introdotto Gandhi in Italia o tradotto Gandhi in Italia e effettivamente in Capitini c'è l'abbiamo anche detto il tentativo di innestare la non violenza sulla tradizione del come possiamo chiamarlo del pensiero politico del pensiero se noi non che si possa è una grande schematizzazione diciamo qui è il maestro reale che prende sopra se noi leggiamo diciamo così il movimento storico in occidente dalla rivoluzione inglese ad oggi e lo leggiamo come una lotta epocale tra democrazia e antidemocrazia Capitini porta la non violenza o porta Gandhi dentro quello scenario e lo mette nel solco diciamo così del movimento democratico diciamo così democratico per riassumere non è solo quello che cosa secondo me adesso è una risposta che mi viene in mente ascoltando più che più che più che più che più che cosa che cosa gli è mancato o che cosa non c'è in Capitini per cui per cui questa per cui diciamo così la sua posizione il suo pensiero il contributo che lui ha portato e venga non sia stato percepito vissuto e e collocato come una tappa importante di questo movimento diciamola così più che quello che gli manca è quello che c'è forse quello che c'è più quello che c'è che quello che non c'è diciamo così questo riconoscimento dell'importanza di questa teoria dentro questo movimento storico e ideale non lo abbiamo avuto non perché manca qualcosa ma perché c'è qualcosa dentro la posizione di Capitini che lo rende anomalo eterogeneo e finisce col farlo diventare alla fine avulso diciamo da questo movimento che è il tema religioso cioè il fatto che questa cioè se lui questa teoria diciamo così lo dico un po' un po' non ne sono sicuro ma voi provate a immaginare questa teoria liberata dai lacci della religione e quindi posta su un piano mondano laico cioè dichiaratamente come si potrebbe dire lo dico così illuministico senza il adesso non vuole offendere nessuno senza la zavorra della religione probabilmente questo pensiero avrebbe avuto un riconoscimento maggiore non sarebbe stato più Capitini forse non lo so sarebbe diventato un'altra cosa però io ho l'impressione che 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 sia un po' questo che 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 anche e poi e poi aggiungo non solo la religione Capitiana non è una zavorra però la religione può diventare una zavorra e Capitino lo sapeva perfettamente e però è una è un'aggiunta religiosa è un posizionamento religioso che sfida tutte le religioni costituite capite praticamente dentro quel movimento hanno trovato un riconoscimento altri altri pensieri altre altre teorizzazioni diciamo così che hanno tentato di connettere il cattolicesimo alla democrazia o alle democrazie mentre la posizione di Capitini non trova posto perché non solo c'è questa questa aggiunta questo pezzo religioso è un pezzo religioso inclassificabile cioè voglio dire lui era è una sfida è una sfida forse troppo alta la sua perché lui la sua è una posizione che non può essere classificata né dentro non sta né dentro le linee religiose quelle che si sono affermate storicamente e neanche dentro le linee laicistiche che si sono affermate storicamente e quindi lui praticamente è fuori da tutti o meglio viene collocato fuori da tutti dai movimenti storici che poi si sono che hanno si sono si sono contrastate tra di loro non lo so non so se questa è la risposta però vedendolo da fuori non gli manca niente se posso esistere un momentino senza stancare gli ascoltatori quello che dici è anche la risposta che mi ha dato Fabris ha una domanda simile e però può essere ribaltato nel senso che Capitini fa parte di quei maestri della non violenza italiani che in generale hanno mantenuto il legame con la religione ma fuori dell'Italia nessuno ha mantenuto il legame con la religione e c'è stata una progressiva secolarizzazione si potrebbe dire della non violenza di cui attualmente l'esponente massimo è Gene Sharp che domina il panorama dei non violenti e che fa pensare che appunto come diceva anche Müller Gandhi non si è liberato dalle scorie religiose lui usa questa parola simile a tu a Zavorra tu dici Zavorra lui dice le scorie però resta il fatto allora che se il problema sta in questa parola religione e Capitini però ne ha dato un senso un'accezione veramente nuova diversa dal solito non sarebbe forse il pensiero laico in mancanza di una capacità di recepire un discorso religioso non religioso tradizionale oggi escono libri sulla religione dopo la religione la religione non religiosa oggi c'è un'attesa in questo senso Capitini l'avrebbe anticipata e il mondo laico italiano non se ne sarebbe accorto seguendo un pannella che faceva della non violenza delle pure tecniche quindi il discorso può essere anche ribaltato questa tua risposta mi sembra che abbia una grossa componente valida ma c'è anche da pensare il contrario che c'è c'è una mancanza più che di Capitini del suo uditorio che non ha percepito che questa parola religiosa era un progetto e questo progetto non è stato colto no no ma sono d'accordo difatti la mia non era una difesa del laicismo pur 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 stando riconoscendomi più dentro poi si intendersi comunque dentro quella quella questa linea di pensiero chiamiamola così no e dicevo che proprio questo pezzo religioso che Capitini porta lo ripensa e lo e lo e lo connette diciamo così come abbiamo visto largamente alla politica è una delle ragioni per cui il pensiero laico non lo non lo non lo capisce non lo comprende esattamente quello che e poi diciamo così che parlando un po' se vogliamo parlare secondo me l'attualità di Capitini più che l'attualità la forza diciamo di Capitini è sul piano individuale adesso forse il mio amico non sarà molto contento però io la trovo là sul piano individuale perché anche sul piano individuale adesso noi sappiamo per esempio se lo dico io diciamo così che sono conosciuto con Bobbio significa qualcosa noi sappiamo che il problema religioso non è un problema non è una questione che può essere risolta con con frasi fatte e con e con formulette che non so mai non so neanche se mai per dirne una parola di Mars se l'abbia mai scritto o pronunciata cose tipo l'oppio dei popoli o qualcosa di premoderno o qualcosa di che attiene alla sfera del irrazionale noi sappiamo che abbiamo imparato forse l'abbiamo imparato anche grazie a Capitini che il problema religioso è connesso alla natura dell'uomo è uno bisogno non è anche una parola che mi piace è una sfera dell'esistente dell'esistenza umana ed è qualcosa con cui bisogna fare i conti e Capitini vi fa i conti in un modo innovativo originale interessante che secondo me mantiene tutta la sua tutta la sua validità tutta la sua forza è veramente un rivoluzionamento diciamo così una tramutazione del del modo di intendere il problema religioso che va incontro a tante delle domande a cui alludevi tu potrebbe essere effettivamente una fecondo diciamo così inserito dentro quella quella cronice di problemi bene grazie so che possiamo continuare a parlare un momento mangiando qualcosina e quindi continuiamo vi invito a restare diciamo così grazie